Hello guys, io sono Shen e bentornati, indovinate un po' dove? Su Hearthstone e indovinate un po' per che motivo? Ovviamente, lo vedete da soli, 20 bustine che dobbiamo spacchettare. E quindi, bando alle cianci e cianci alle bandi, iniziamo con il nostro solito spacchettamento. Oggi abbiamo 11 bustine classiche, 5 che non mi ricordo come si chiamano, e come era, ricordi, qualcosa, ci dà delle carte carine, se abbiamo fortuna, e 4 del nostro fantastico set. Perché non mi ricordo i nomi oggi? Sto a pedire i 7 manolestari sotterra. Odio quando non mi ricordo i nomi. Beh, iniziamo a spacchettare, non perdiamoci. Beh, se partiamo con una leggendaria, io non mi lamento. Oh, si parla anche con una comune dorata, elementale ripugnante, 4 mana, 3-3, elementale, profacazione e randito di morte. Infriggio i danni a tutti i servitori, tranne i tuoi elementali. Buono. Assistente dello smaltimento. Prima era la ondata di calore. Altra rara. Trappano pugno mohark. E la leggendaria è... Asta loro ciura sangue. Davvero. Ok. Unexpected. Decisamente unexpected. Venditore di Elisir. Cercatore d'oro. Pugno di cadaveri. Una rara che è Cuoco Corrotto. E la Epica che è Elementale Cinerio. Allora, questo pack... Che cosa mi devo fare? C'è tipo l'animazione strana, mi sembra. Sì, punto. Quindi abbiamo un riflettore. Hai trattato delle carte. Le buste di recupero contengono fino a un massimo di 50 carte che non hai ricevuto dai set inclusi. Progress fondamento 7. Città sommessa 8.2.3. Castello di Natarian 83.3. Re dei Leech 84.2. Festival 82.4. Titani 78.4. Ah, quindi mi dà le carte che mi mancano dei set passati. Mi ne dà 5. Ok, così funziona allora. Interessante. Disidratazione. Taglia Cactus. Oh, Murlock. Non l'ho mai visto questo Murlock. Assistente allo smaltimento. Guardiana con lanterna. E la rara che è... Artificiere Sfortunato. Beh, andiamo un pochino nel nostro... BAM, 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 BAM. Ho sentito un serpente. In alto nel cielo. Addetto alla melma. Ho detto melma, eh. Ricordate. Melma. Carbone della fornace. Raggio prismatico. E la rara che è Destrero all'Argentia. Che mi ricorderà sempre il drago bianco Occhi Blu. Ma dettagli. Prossima. Niente, niente. 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 Prateria vivente. Disidratazione. Elementale traboccante. Rapina. E infine, una rara che è Cappello da Cowboy. Ma stiamo trovando, a parte quella leggendaria, nulla di interessante. Ragno delle Potolee. Serpenti furtivi. Crioconservazione. Oh, un'altra comune dorata. Venditore di Elisir. Un'umana, due due, tutte le classi. Ragno di Morte. Ottieni un oro di serpente con Scambio. E la rara invece è Vagabondo assetato. Ah, prima di me ho fatto un achievement. Infatti mi sembra stato detto tutto l'episodio ma anche un achievement. Che sta succedendo? Era un po' anomalo. Prateria vivente. Ragno delle Potole. Rivestimento riforzato. Lungo braccio della legge. E la rara che è Destriero all'Argentia. Next, next, next. Rara, niente, 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 niente. Lancia ferri di cavallo. Drago, macchia solare. Drago, macchia solare. Drago, no. Davvero. Doppia doppia nel stesso pack. E la rara è Prepara le Cartucce. È Generiche delle Maleterre. Dobbiamo discutere. Comunque se ti chiamano le Maleterre. Grazie gioco per avermelo ricordato. Meccanico di Vagoni. Meccanico... Ah, le doppie! Venditori di Elisir. La prima rara è Draghetto Sguazzante. E l'altra invece è Elisir Anfiglio. Andiamo un po' con le Maleterre. Rara, rara, niente, niente, niente. Reidratazione. Cobol Dominatore. Elementale Ripugnante. La prima rara è Mattrona del Deserto. E l'altra rara è Scheletro Bovino. Dai, gioco qualcosa di... Wow! No. Lama Dossa. Cobol Dominatore. Lama Dossa. Unità di Contenimento. E la rara, invece, Cowboy della Gang Ogre. Un po' di carte nuove non è che ci dispiacciono, però sentiamo qualcosa di un pochino più... Incisore Dragatore. Caninobot. Sicurezza! Alfire della Luce. E una epica iltrita carne. Ah, vuoto Cavalier della Morte della Delice. Buono, buono. Pium! Assistente allo smaltimento. Partner Turboleta. Reidratazione. La rara è Manovale Scheletrico. E la epica, invece, è Ladra di Bestiame. Ok. Ultimo pack della serie Capitan Po' Di Tutto. Però le epiche sono arrivate. Però dove ho metterlo? Bibliotecaria Confusa. Sigillo del Tempo. Idraulica della Poltiglia. Mirmidone. E la epica, invece, è Ondata Abissale. Invece, l'ultima delle Male Terre è... Una leggendaria? No. Raffica al Tramonto. Cowboy Sacro. Coniglio Appestatore. Lanciaferi di Cavallo. E la rara è... Estrazione. Quindi, questo, teoricamente, deve darmi sempre carte nuove, da quel che ho capito, dei vecchi set. Psicologo Forense. Fedele Furier 100. Metamorfi Medusa. Tassiera Cosmica. Ed Esca Perfetta. 82, 83, 94, 82, 78. Vediamo se riesco a ricordarmi questi valori. E verificarlo. 82, 78, 84, 82, 78. Ah, una nuova. Ok, ok. Non mi dà soltanto nuove. Mi dà un po' di tutto. E mi segna con nuove. Quante nuove ho trovato. Deposizione. Ostica. Ostica. Ninna nanna. Resti corrotti. E assalto spettrale. Vediamo se la penultima ci dà qualcosa. Una nuova del festival, ok. Serenità. Geist ombrale. Percussionista. Pergamone di Asshara. E situazione spinosa. Ultimo pack dell'episodio. Oh, una leggendaria mi è uscito. Uno nuova del Natale e uno del Redelich. Disco Maglio. Kaiser bollente. Cimitero pietra del peccato. Lachemiditeer. E finiamo con la leggendaria Anacronos. Ma almeno abbiamo chiuso. Abbiamo iniziato con una leggendaria. Abbiamo chiuso con una leggendaria. Quindi c'è stato uno so che divertente. Oggi i cimiteri sono un po' pochi. Rispetto al nostro solito. Ma non ci lamentiamo. E invece di Essenze abbiamo 37 comuni. Bene ragazzi. E anche questo episodio si conclude qui. Vi ringrazio tutti quanti per la visione. Vi vedo a lasciare un like o commentino. E noi ci vediamo al prossimo spacchettamento. Qui da Shen è tutto. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.